ho scelto volutamente di registrare questo breve video in macchina la macchina è un mezzo che ci trasporta da un punto all'altro ma quando ci fermiamo ci permette di considerare da dove veniamo dove siamo e dove stiamo andando e così è un po' anche l'inizio del pensare filosofico nella vita qualunque cosa facciamo professione semplice agire quotidiano arte se ci fermiamo per un attimo e iniziamo a pensare dove siamo che cosa stiamo facendo da dove veniamo e dove stiamo andando noi iniziamo un processo filosofico cioè mettiamo in questione il nostro agire scontato e ne cerchiamo le ragioni definiamo anche degli obiettivi dei termini stabiliamo dei criteri per fare ciò ci poniamo delle domande e queste domande hanno che fare con quello che stiamo facendo in questo senso ognuno di noi può avere un approccio filosofico alla sua vita e specialmente se pensiamo alle emozioni le emozioni e il modo in cui determinano compongono il nostro modo di sentire ecco questo primo breve video per dare un indizio di come uno inizia a filosofare